Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo video. Oggi ci occupiamo di nuovo di sintassi dei casi latini e in particolare della sintassi degli usi degli accusativo. Andiamo a incominciare. Quali sono le funzioni dell'accusativo? Sono fondamentalmente quattro e sono tutte legate all'idea di movimento verso qualcosa o verso qualcuno. La prima è la funzione di oggetto diretto, l'oggetto su cui ricade l'azione del verbo. La seconda, quello che ho chiamato accusativo con i verbi impersonali, vedremo che è un costrutto particolare che in qualche modo è vicino poi alla terza, l'accusativo di relazione. L'accusativo con i verbi impersonali ci dice chi prova il sentimento espresso da un verbo usato in modo impersonale, l'accusativo di relazione ci dice in rapporto a chi o a che cosa vale l'azione espressa dal verbo e poi c'è l'accusativo che indica proprio il movimento nello spazio o il movimento nel tempo. Quali sono le desinenze dell'accusativo? Ricordatevele sono qui nello specchietto per la prima declinazione am al singolare, as al plurale, per la seconda um oppure os al plurale a se è un neutro, per la terza em o desinenzie varie se è neutro, al plurale es e a oia per il neutro, per la quarta um u per il neutro e us ua per il neutro, per la quinta em e es al plurale. Partiamo dalla prima funzione, quella di oggetto diretto, la più semplice, quella che sicuramente conoscete fin da quando avete iniziato a studiare il latino. L'accusativo esprime il complemento oggetto e tutto quello che lo riguarda, quindi attributo, apposizione, complemento predicativo dell'oggetto. Vediamo un esempio senatus ciceronem virum optimum consulem voluit, cioè il senato volle come console, complemento predicativo dell'oggetto, cicerone, complemento oggetto, uomo eccellente, apposizione del complemento oggetto con anche un attributo eccellente. Bisogna però ricordarsi che esistono dei verbi che in latino sono transitivi, quindi si costruiscono con un oggetto diretto in accusativo, in italiano sono intransitivi. Tra i principali vediamo un attimino quali sono. Iuvo e il suo composto adiuvo, cioè giovare. Noi diciamo Marco giova a te, i latini dicevano Marcus te iuvat. Spero e despero, sperare o disperare, noi diciamo di qualcosa, Cesare di spera della vittoria, ma i latini dicevano Cesare victoriam desperat. Deficio, che significa venir meno, abbandonare. Le forze mi vengono meno, cioè vengono meno a me, ma i latini dicevano vires me deficunt. Fugio e fuggio, sfuggire a. Antonius mortem non fugit, cioè Antonio non sfugge alla morte. Abdico, cioè abdicare o rinunciare a qualcosa, tipicamente una carica politica. Noi diciamo che Pompeo abdicò al consolato, però i latini dicevano Pompeius abdicavit consulatum. Ulciscor, cioè vendicarsi di qualcosa. Io mi vendico dell'uccisione di mio padre, ma i latini dicevano Ulciscor, Patris, Necem, accusativo. Vogliono un oggetto diretto tutti quei verbi di movimento che sono composti con una preposizione che già di per sé vorrebbe l'accusativo. Circumire urbem significa camminare intorno alla città, perché circumire è composto di ire, da eo, più circum, che significa intorno a e che è una preposizione che vuole l'accusativo. Vogliono un oggetto diretto in accusativo, tendenzialmente, tutti quei verbi che indicano un sentimento, i cosiddetti verbi affectum. Io sono triste per la tua miseria, i latini dicevano Doleo miseriam tuam, e hanno un oggetto diretto in accusativo, anche se sono intransitivi, alcuni verbi se hanno il cosiddetto accusativo dell'oggetto interno, cioè un complemento oggetto che è corradicale o che ha un significato molto legato al verbo intransitivo, ad esempio vivere vitam si può dire, cioè vivere una vita. A questo punto passiamo a vedere il costrutto dell'accusativo con i verbi impersonali, partendo da quelli che si definiscono di solito verbi assolutamente impersonali, cioè quelli che non possono mai avere un soggetto innominativo. Quali sono questi verbi? Sono questi, miseret, penitet, piget, pudet e tedet. Vedete che sono alla terza persona singolare, ma io li ho tradotti con avere compassione, pentirsi, rincrescersi, vergognarsi, annoiarsi. Perché? Perché in italiano questi verbi hanno normalmente un costrutto personale, si può dire chi ha compassione, chi si pente, chi si vergogna, eccetera. In latino no. In latino la persona che prova il sentimento, quello che nella frase italiana è il soggetto della frase, io mi pento, viene messa in accusativo, me penitet, io mi pento. E invece la cosa che provoca quel sentimento è in genitivo. Questo costrutto è più simile a quello dell'italiano, noi diciamo io mi pento della mia malizia e infatti me penitet, malizia e me genitivo. Se però questa cosa è un pronome neutro lo si lascia in nominativo, me penitet och, io mi pento di ciò. Se la cosa che provoca il sentimento è un'intera frase, si può costruire con un infinito o con una completiva infinitiva o con una completiva con quad, me penitet peccavisse, me penitet me peccavisse o me penitet quad peccavi. Insomma io mi pento di aver peccato. Però appunto questi verbi si usano sempre a terza persona singolare e quello che in italiano è il soggetto, cioè la persona che prova questo sentimento, va messo in accusativo. Attenzione a una cosa, se questi verbi sono retti da un verbo servile o da un verbo fraseologico, ad esempio essere soliti, di solito cosa succede? Che è il verbo servile o fraseologico a diventare impersonale. Abbiamo detto me penitet, io mi pento. Se voglio dire sono solito pentirmi, in latino devo dire solet me penitere, cioè letteralmente è solito pentirmi. Però ovviamente è solito pentirmi non ha senso che questo solet è diventato lui impersonale. Dobbiamo renderlo con sono solito pentirmi. A questo punto passiamo al secondo gruppo di verbi impersonali, quelli che sempre nella classificazione tradizionale vengono definiti come relativamente impersonali. Perché? Perché vedremo che hanno un costrutto simile a quello dei cosiddetti verbi assolutamente impersonali, ma ammettono un soggetto al nominativo. Quali sono? Questi sono i principali. Me fallit, cioè io mi inganno, me fuggito, me latet, mi sfugge, me decet, mi si addice, con il suo contrario me dedece, cioè non mi si addice. Alcune grammatiche ne riportano anche altri, non è un elenco così fisso. Qual è la loro caratteristica? Che si trovano di solito alla terza persona, singolare o plurale, e che la persona che prova il sentimento, esattamente come per i verbi assolutamente impersonali, è in accusativo. Vos decet, cioè a voi si addice. Però la cosa che provoca il sentimento, quella stessa cosa che per i verbi assolutamente impersonali era in genitivo, qui si trova il nominativo. Vos decet moderatio, cioè la moderazione si addice a voi. Se il soggetto è una frase, se la cosa che provoca il sentimento è un'intera frase, può essere un infinito, oppure una completiva infinitiva, o un'interrogativa indiretta. Fermo restando che la persona che prova il sentimento è sempre in accusativo. Vos decet, cioè a voi si addice, pugnare, combattere. Nos fallit, cioè ci inganna. Cicerone mabire, che cicerone parta, il fatto che cicerone parta. Me fugit, mi sfugge, con un'interrogativa indiretta. Quo pergas, verbi relativamente impersonali. La persona che prova il sentimento su cui ricade l'azione è in accusativo, però questa volta la cosa che provoca il sentimento è un soggetto in nominativo o un'intera frase. Passiamo al costrutto dell'accusativo di relazione propriamente detto. L'accusativo di relazione è quello che mi esprime, che è uno dei modi per esprimere, il complemento di limitazione, cosiddetto accusativo alla greca perché è un costrutto particolarmente diffuso in greco. Se dico ad esempio fessus et fractus animum, cioè stanco e distrutto nell'animo, relativamente all'animo, magari nel corpo invece sta benissimo. Di solito, cioè spesso, questo costrutto dell'accusativo di relazione si trova con pronomi e aggettivi neutri in dipendenza da verbi intransitivi. Questa frase di Cicerone è un esempio classico, lui dice cetera ad sensio crasso, cioè sono d'accordo con crasso in tutto il resto, per tutto quanto il resto. L'ultima delle funzioni dell'accusativo è quella che mi indica un movimento nello spazio o nel tempo. Movimento nello spazio, innanzitutto il classico complemento di moto a luogo. in templumeo, vado dentro al tempio, piuttosto che romam pergo, mi dirigo verso Roma. Non ho messo la preposizione ad perché ricordatevi che con i nomi propri di città, di piccola isola, il complemento di moto a luogo tendenzialmente si costruisce senza preposizione. È un accusativo di movimento nello spazio anche quello che mi indica il moto per luogo, per cubiculum tum curris, cioè tu corri attraverso la tua stanza. Attenzione che rientra in questa idea del movimento attraverso qualcosa anche quello che è il complemento di strumento, reso con per più accusativo. Teodico, tibid dico, per nunzios attraverso i messaggeri, cioè i messaggeri sono il tramite attraverso cui l'azione passa e arriva fino a me. Accusativo di movimento può indicare anche un'estensione nello spazio, quindi delle dimensioni, una distanza, uno spazio percorso, ad esempio murus altus unum pedem, un muro alto, un piede. Abesta castris milia octo, è lontano, otto miglia dall'accampamento. Progredior unum passum, avanzo di un passo, e così via. L'accusativo mi può indicare anche una estensione nel tempo, il complemento di tempo continuato. Totum mensem pluit, piove per tutto il mese, oppure alcune espressioni di età come octavum annum agere, letteralmente trascorrere l'ottavo anno, passare attraverso l'ottavo anno, quindi avere sette anni compiuti, si sta trascorrendo l'ottavo. Nel video sul nominativo abbiamo parlato del costrutto del doppio nominativo. Esistono casi in cui si trova anche un costrutto di doppio accusativo. Il più semplice è quello dell'accusativo dell'oggetto e del predicativo dell'oggetto, lo stesso esempio che vi ho fatto all'inizio del video. Senatus ciceronem consulem voluit, il senato volle cicerone come console. Oppure possiamo trovare il complemento oggetto e un accusativo di luogo, indipendenza da quei verbi che abbiamo detto si costruiscono con l'accusativo perché sono composti con una preposizione che già vuole l'accusativo. Exercitum flumen, transducere, cioè condurre, complemento oggetto, l'esercito, al di là del fiume. Transducere, già composto con la preposizione trans, non devo riprendere la preposizione, metto semplicemente l'accusativo flumen. Oppure accusativo del complemento oggetto e accusativo di relazione con alcuni verbi, cioè doceo, celo e i verbi che indicano una richiesta, rogo, oro, peto. Doceo discipulos latinam linguam, cioè io insegno la lingua latina, discipulos noi lo traduciamo con agli alunni. Cielo patrem fugam meam, ovvero sia nascondo la mia fuga complemento oggetto a mio padre. Oppure rogo Pompeium sententiam, chiedo un parere a Pompeo. Questi verbi possono avere anche altri costrutti. Con doceo e con cielo possiamo anche trovare il de più ablativo, doceo cesarem de coniurazione, cioè informo cesare della congiura, oppure cielo cesarem de coniurazione, tengo nascosta a cesare la congiura, un accusativo ma l'altro con il de più ablativo. I verbi di richiesta possono avere anche loro dei costrutti alternativi. Interrogo Pompeium de coniurazione, per esempio, interrogo Pompeo sulla congiura, si possono costruire con il de più ablativo. Si possono costruire con a o ab più ablativo, se si vuole dire chiedere qualcosa a qualcuno, posco cibum a Pompeio, chiedo del cibo a Pompeo. Oppure con una completiva volitiva, rogo Pompeium ut veniat, prego Pompeo di venire. Infine, bonus, non rientra nelle funzioni dell'accusativo vere e proprie, ma ricordatevi che le esclamazioni di solito sono costruite in accusativo, totalmente slegate da ogni legame di tipo sintattico. Se devo dire, oh cosa incredibile, dirò, oh rem incrediblem. Spero che il video vi sia stato utile, che abbia chiarito quali sono le funzioni principali dell'accusativo, che vi abbia aiutato a rivedere i costrutti principali e magari più problematici dell'accusativo come quello dei verbi impersonali. Lasciatemi un feedback, fatemi sapere se vi è piaciuto o no e vi auguro buon lavoro. A presto!